Ben tornati su Sicilia 24 per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Apriamo parlando dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS nel Catanese e non solo. È stato effettuato un maxi sequestro di alimenti e luminarie. Tutti i dettagli nel servizio. Controlli per il contrasto alle attività illecite e alle contraffazioni nell'ambito della sicurezza alimentare e sanitaria sono stati condotti nel periodo pre-natalizio dai carabinieri del NAS di Catania, competenti anche nelle province di Messina ed Enna. In un deposito di frutta secca è stato sequestrato un ingente quantitativo di pistacchio fresco preconfezionato invaso da larve di insetti parassiti che lo rendevano non idoneo al consumo umano. In un garage nella periferia di Catania è stato sorpreso un venditore ambulante che si apprestava a preparare centinaia di preparati a base di carne per la successiva commercializzazione tra il degrado con materie prime accatastate promiscuamente all'interno di una cella frigorifera fatiscente. L'attività è stata bloccata e sono stati posti sigilli sull'immobile. In un laboratorio di pasticceria nella zona ionica sono stati rinvenute decine di chili di prodotti semilavorati di origine e provenienza sconosciuti, mentre nell'Interland catanese è stato individuato un panificio che versava in pessime condizioni sanitarie e strutturali che produceva quotidianamente ingenti quantitativi di pane destinati ad una nota catena di supermercati. Nella Cese, in una rivendita di prodotti importati, sono state sequestrate luci natalizie prive della prescritta marchiatura comunitaria, mentre a Catania, nel centro storico, è stato individuato un grossista che importava dispositivi ponendoli in vendita senza indicazioni in lingua italiana e privi delle prescritte schede di sicurezza attestante alla conformità elettrica. Sono stati sequestrati circa 2.500 articoli, tra cui luminarie elettriche e dispositivi elettronici in multifunzione ritenuti pericolosi per la salute dei consumatori. Nel Messinese, invece, sono stati controllati alcuni mercatini di Natale, sequestrando, preparati a base di carne, prodotti caseari di origine e provenienza incerta, privi di documentazione comprovante la filiera alimentare e numerose confezioni di luminarie elettriche e dispositivi elettronici di produzione extracomunitaria, prive di marchio CE. Parliamo adesso del caro voli in Sicilia perché c'è una novità importante. L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Ryanair, Wizz Air, EasyJet e ITA per stabilire se abbiano distorto la concorrenza aumentando i prezzi dei biglietti aerei sulle tratte di collegamento tra le principali città italiane, Roma, Bologna, Torino e Milano, e la Sicilia durante le festività natalizie. L'autorità ha deciso di dare seguito a un esposto presentato dal Codacons Sicilia il 13 dicembre, ritenendo che le eventuali distorsioni dei prezzi risulterebbero particolarmente gravi, soprattutto nell'attuale fase di crisi, di difficoltà per i consumatori e di riduzione del potere d'acquisto delle famiglie. Ci spostiamo adesso a Pachino, nel Siracusano, parliamo ancora di cronaca. Un giovane bracciante agricolo è stato tratto in arresto dai carabinieri poiché in un fienile nascondeva armi, munizioni e sostanze stupefacenti. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Pachino hanno tratto in arresto un bracciante agricolo di 25 anni per possesso ingiustificato di armi e munizioni e detenzione di stupefacenti. I militari, entrati nell'abitazione dell'uomo per la verifica di un allaccio abusivo alla rete elettrica, hanno esteso il controllo a un fienile dal quale si notava un vistoso cavo elettrico. Il giovane, intuita l'intenzione dei carabinieri, furtivamente è entrato nel fienile da un accesso sul retro e ha occultato uno zaino oltre alle balle di fieno. L'azione però è stata notata dai carabinieri che all'interno della sacca hanno rinvenuto due pistole con matricola brasa, munizioni e oltre 600 grammi di marijuana. Il 25enne è stato quindi arrestato e condotto presso la casa circondariale di Siracusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da Pachino a Comiso, nel Ragusano, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno invece tratto in arresto due stranieri, due tunisini e condotti in carcere, sono accusati di rapina e lesioni aggravate. Vediamo il servizio. La Polizia di Stato di Comiso ha eseguito due misure di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa nei confronti di due stranieri residenti da tempo a Comiso, autori di una rapina in danno di un ignaro cittadino e subito dopo di un'aggressione con spranghe e mazze a danno di un'altra persona. La notte del 26 novembre scorso è giunta la richiesta di soccorso di due persone per aggressione. La volante intervenuta ha constatato la presenza di due uomini feriti. Uno ha raccontato di essere stato preso a sprangate e poi rapinato del cellulare mentre rientrava presso la propria abitazione da due soggetti che successivamente si sono recati verso l'abitazione dell'altra persona ferita danneggiando con spranghe di ferro la porta d'ingresso. Le modalità violente dei due episodi hanno indirizzato i poliziotti sulle tracce di un uomo il quale in estate era stato autore di un'aggressione in danno dello stesso proprietario della casa danneggiata e per avere aizzato in pieno centro con Misano il proprio cane contro un anziano signore che nell'occasione aveva riportato gravi lesioni. Tali elementi indiziari corroborati da elementi oggettivi quali le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati hanno consentito agli agenti di individuare e identificare i soggetti responsabili dei reati commessi. Il quadro inquisitorio ricostruito è stato pienamente condiviso dalla procura della Repubblica di Ragusa che ha chiesto al GIP l'adozione di idonee misure restrittive finalizzate a scongiurare il pericolo della commissione di altri reati contro la persona anche in considerazione della gravità delle condotte poste in essere dagli aggressori. I due uomini, un 36enne e un 30enne, entrambi tunisini, sono stati pertanto associati alla casa circondariale di Ragusa. Restiamo nel ragusano per parlare però della morte di un ragazzo, ennesima vittima della strada di un incidente stradale avvenuto in questo caso a Pozzallo, come detto in provincia di Ragusa. La vittima è un giovanissimo, un ragazzo di 14 anni, il quale era alla guida di uno scooter che si è scontrato con un'auto. Il fatto è avvenuto in Via Australia. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della compagnia di Modica per effettuare tutti i rilievi e le indagini del caso. I militari dell'arma stanno anche verificando l'eventuale presenza nella zona di sistemi di videosorveglianza che possano aver ripreso scene utili per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La procura di Ragusa ha intanto aperto un'inchiesta su questa tragica vicenda, questo drammatico incidente stradale costato la vita, lo ripetiamo, a un ragazzo di 14 anni. Ed ora ci spostiamo nell'Agrigentino per la precisione a Sciacca e continuiamo a parlare di cronaca. Un ventunenne di Ribera, ma residente proprio a Sciacca, è stato denunciato in stato di libertà alla locale procura della Repubblica per l'ipotesi di reato di violenza sessuale su persona in condizione di inferiorità psichica. Il giovane avrebbe infatti indotto una ventiduenne del posto, una ragazza disabile intellettiva, a inviargli delle foto delle sue parti intime in una chat privata. La mamma della ragazza, scoperto il fatto, si è ovviamente rivolta ai carabinieri della stazione di Sciacca per formalizzare una denuncia con i militari dell'arma che dopo aver acquisito le conversazioni della chat, ma anche le fotografie incriminate, come detto hanno deferito il ventunenne. Torniamo adesso a occuparci del caso e dell'omicidio di due ragazzi siciliani avvenuto in Inghilterra. I ragazzi si tratta di Nino Calabro, di Barcellona Pozzo di Gotto e Francesca di Dio, di Montagna Reale. Sono dunque due ragazzi della provincia di Messina. Un duplice omicidio ancora avvolto nel mistero. I due ragazzi sono stati trovati senza vita nell'appartamento in cui vivevano, come detto, in Inghilterra. La polizia non parla ancora di omicidio, ma tutto sembra portare proprio al delitto. A chiamare i poliziotti sono stati alcuni amici dei due ragazzi insospettiti perché nessuno dei due rispondeva al telefono. Secondo le indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, la polizia avrebbe fermato un ex coinquilino di Nino Calabro, un giovane che avrebbe origini siciliane, mentre ieri è stato interrogato un altro coinquilino, un iraniano. Dunque le forze dell'ordine stanno indagando, ovviamente monitoreremo questa vicenda, questo grave fatto di cronaca che arriva dall'Inghilterra, ma che come detto riguarda due ragazzi siciliani. E se ci saranno nuovi sviluppi nel corso della giornata, se ci saranno degli aggiornamenti, ve li daremo nel corso delle nostre edizioni di Spazio Notizia. Ed ora il Covid. Andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino settimanale diramato dalla regione siciliana. Nell'isola sono in lieve calo i nuovi contagi da Covid, mentre resta stabile la curva delle ospedalizzazioni. Ma vediamo nel dettaglio il bollettino. Nella settimana dal 12 al 18 dicembre si assiste a un lieve decremento delle nuove infezioni da Covid in Sicilia con 11.246 nuovi positivi. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Ragusa, Palermo e Messina. Le fasce di età più a rischio sono quelle tra i 70 e i 79 anni, gli over 90 e tra gli 80 e gli 89 anni. La curva delle nuove ospedalizzazioni è stabile e nella settimana di riferimento più di metà dei pazienti in ospedale risulta non vaccinata. I dati relativi alla campagna vaccinale prendono in esame la settimana dal 14 al 20 dicembre. Nella fascia d'età 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose sono il 24,40% del target regionale. Il 20,98% pari a 64.667 bambini ha completato il ciclo primario di vaccinazione. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose sono il 90,90%, mentre ha completato il ciclo primario l'89,55% del target. I vaccinati con terza dose invece sono 2.771.436, pari al 72,39% degli aventi diritto. Dal 23 settembre il Ministero della Salute ha autorizzato l'utilizzo dei vaccini bivalenti per la somministrazione della quarta dose su richiesta dell'interessato a tutti gli over 12 che abbiano ricevuto la terza dose da almeno 120 giorni. Sono state effettuate in poco meno di 10 mesi 213.752 somministrazioni di quarta dose, di cui 188.851 a over 60. Sempre da fine settembre è stato autorizzato l'utilizzo dei vaccini bivalenti per la quinta dose ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria. Dal 17 ottobre infine è consentita la somministrazione della quinta dose con vaccino bivalente anche agli over 80, agli ospiti in RSA e alle persone over 60 con fragilità. Le quinte dosi finora somministrate sono 5.815. E ora parliamo di terremoti in Sicilia. La terra continua a tremare successo più volte in questo 2022 e soprattutto nell'ultimo periodo. Stavolta un sisma di magnitudo 2.1 è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma alle 6.18 di questa mattina nel territorio di Militello in Val di Catania, per la precisione a una profondità di 9 chilometri. Come detto si tratta dell'ennesima scossa di terremoto registrata in Sicilia, scosse si sono registrate ad esempio nel Messinese ma anche in altre zone dell'isola e adesso quest'ultima di magnitudo 2.1. Anche stavolta però non ci sono stati fortunatamente problemi né per le cose né tantomeno per le persone. Ed ora invece parliamo dell'Etna che continua a dare spettacolo con la sua colata lavica, una piccola colata lavica dire il vero, iniziata nella notte tra il 27 e il 28 novembre scorsi. Colata che ha tracimato la Valle del Leone dove si sono aperte le bocche fusive che la generano per dirigersi verso la Valle del Bove raggiungendo un chilometro di lunghezza e una quota minima di circa 2.600 metri sul mare. E' quanto emerge dalle osservazioni effettuate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio Etneo di Catania. L'attuale fase eruttiva del vulcano attivo più alto d'Europa è confinata nella zona sommitale e non impatta con l'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. E con le notizie che arrivano dall'Etna ci fermiamo, chiudiamo questa edizione di Spazio e Notizia ma l'informazione ovviamente prosegue su Sicilia 24. Grazie. Grazie.